salve a tutti io ho finito i liquidi per comprare i liquidi quindi oggi farò una recensione dei nuvoloni dei nuvoloni guarda guarda che nuvoloni guarda ah lo svapo di pormone guarda no perché ho messo una coil sul gun e poi ci ho fatto le spire tipo troppe messe un po' così ci ho messo il cottone sciuso quello che costa assai ah perché questo è il tuo puff ci ho messo a nicotina zero guarda ehi raga che bello ma finitela ma non vi vergognate ma finitela metteteci un bel liquido al tabacco atroce trucioli di frassino noce grattugiato e carbon fossile a nicotina 36 e fumate di guancia fumate che è sta mericanata il tiro di polmone guarda sto facendo i nuvoloni vergogna